Alla didattica a distanza fino al 15 gennaio prossimo per le scuole elementari e medie calabresi e fino al 31 per le superiori, alcuni genitori della nostra regione non ci stanno e nelle scorse ore hanno presentato l'ennesimo ricorso contro un'ordinanza emanata dal presidente facente funzioni Nino Spirli ai fini di tutelare la salute dei ragazzi, familiari e delle persone deboli a loro vicine. Una scelta quella del presidente Spirli maturata all'indomani dell'impennata dell'indice RT in Calabria. Un abbraccio di ferro senza fine questo, un giochino che sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone ha detto. Se il comitato tecnico scientifico ha dato un parere al governo in cui ha spiegato che in Calabria non si può votare, mi chiedo, prosegue come ragazzi e giovani possono andare a scuola, magari andando incontro ad assembramenti? Cosa potrebbe succedere se i ragazzi dovessero contagiarsi nelle tragitto casa-scuola e dovessero infettare le persone a loro care? Non vi è una responsabilità alcuna attribuibile a Giunta o alla politica. C'è di mezzo il buonsenso a cui non si può andare contro, bensì incontro. Una vicenda a cui Spirli ha dato mandato di occuparsene direttamente all'Avvocatura regionale anche al punto di finire in Consiglio di Stato.